Ci sono casi in cui la realtà è più insensata di qualsiasi romanzo giallo. È il caso di uno dei delitti più noti e controversi della storia criminale americana, definito dai quotidiani dell'epoca il delitto del secolo, quello degli assassini Leopold de Loeb, che ha ispirato autori teatrali, scrittori, registi, tra cui niente meno che Alfred Hitchcock. Benvenuti amici, sono Elisabetta e questa è la rubrica Un libro per un delitto, che unisce la mia passione per il true crime con quella per la lettura. Ogni mese vi racconterò un crimine ferato e alla fine del video vi segnalerò uno o più romanzi o racconti ispirati alla storia narrata, da casi italiani poco conosciuti ad elitti celebri che hanno ispirato i più grandi autori della letteratura internazionale. Sempre senza dimenticare che ogni vittima era prima di tutto una persona e che la sua storia merita sensibilità e rispetto. Torniamo ora indietro nel tempo e partiamo dal principio. Siamo a Chicago nel 1924. Il proibizionismo, che ha bandito la fabbricazione, vendita, importazione e trasporto di alcol sin dal 1920, concorre al prosperare della criminalità organizzata, ma il gangster più famoso degli Stati Uniti ha appena lasciato la città. Al Capone, infatti, ha da poco trasferito il centro delle sue attività a Cicero, nell'Illinois, perché il sindaco corrotto di Chicago da lui appoggiato ha perso le elezioni. E questa è la città in cui, ben lontano dal mondo della malavita, vive anche Robert Bobby Franks. Bobby nacque il 19 settembre 1909 a Chicago, appunto. Nel 1924 aveva quindi 14 anni. Era il terzo figlio di Jacob Frank, il ricco proprietario di una fabbrica di scatole, ed era uno studente della scuola privata Harvard School for Boys. Minuto per la sua età, e talvolta descritto come un saputello un po' viziato, era al contempo anche vivace, intelligente, molto amato dalla sua famiglia e dai suoi molti amici. Gli piaceva giocare a tennis, ed era membro del circolo di dibattito della scuola, dove proprio nel maggio del 1924 aveva sostenuto in dibattito la posizione contraria alla pena di morte. Per una crudele coincidenza, due settimane dopo il dibattito, Bobby era morto. Non solo, era morto senza una ragione, se non quella, dichiarata come vedremo più avanti dai suoi assassini, di voler commettere il delitto perfetto. È scontato ricordare che nessun movente vale a giustificare un omicidio, ma l'assenza di qualsiasi motivazione, anche sbagliata, anche aberrante, che potesse indurre gli assassini ad uccidere un ragazzino di 14 anni, lasciò l'opinione pubblica americana sconcertata, e sicuramente sconcerta a noi tuttora. Tanto più che gli assassini erano ricchissimi, erano colti, erano di bell'aspetto, erano quel tipo di persona che non sarebbe mai e poi mai stata sospettata dell'omicidio, se non fosse stato per un unico banale errore, su cui torneremo più avanti. Per il momento, torniamo al 21 maggio 1924. Quel giorno, due ricchi studenti dell'Università di Chicago, avevano deciso di commettere il delitto perfetto, che avevano studiato nel dettaglio per mesi. Si chiamavano Nathan Frodenthal Leopold Jr. e Richard Albert Loeb. Capiamo anzitutto chi fossero. Nathan Leopold era nato a Chicago da una famiglia dell'alta borghesia. Bambino prodigio, il suo padre. Trascorse l'infanzia affrontando una lunga serie di malattie. Divenne poi un brillante studente, poliglotta, appassionato di ornitologia e affascinato da Nice e dalla sua teoria del superomismo. Estremamente misogino, fu più volte umiliato dal padre, venendo costretto a frequentare un college femminile. Dopo la morte della madre, il padre cercò di lenire il suo dolore con una cospicua somma di denaro. Fragile sia fisicamente che psicologicamente, Leopold era forse alla ricerca di una figura forte su cui fare affidamento. La trovò, purtroppo, in Richard Loeb. Quest'ultimo, anche egli nato a Chicago, apparteneva a una famiglia ancora più ricca. Il padre era un avvocato ebreo divenuto in seguito vicepresidente di una nota catena di supermercati. Richard fu educato a primeggiare sin da piccolo, tanto da terminare gli studi universitari all'età di soli 18 anni. Brillante studente, con un quoziente di intelligenza tra i 160 e i 168, anche egli come Leopold soffrì di diversi disturbi legati a vari tic e a una lieve balbuzie. La sua grande passione erano i crimini efferati. I due giovani si conobbero nel 1919, quando Leopold aveva 15 anni e Loeb 14. Erano accomunati dal disprezzo per le donne, che consideravano essere intellettualmente inferiori. Nathan Leopold era omosessuale, anche se non riusciva ad accettarlo pienamente, e nutriva per Loeb non solo ammirazione, ma anche una forte attrazione. Richard si rifiutava di avere rapporti sessuali con l'amico, ma gli permetteva brevi contatti, a patto che Nathan gli giurasse collaborazione e complicità nei suoi intenti criminali. Secondo l'interpretazione di Richard Leopold delle dottrine di Nietzsche, i superuomini non erano vincolati da nessuna delle norme etiche della società. In una lettera a Loeb scrisse un superuomo è, a causa di certe qualità superiori intrinseche in lui, esentato dalle leggi ordinarie che governano gli uomini. Non è responsabile di nulla di ciò che può fare. I due ragazzi, per spezzare la noia delle loro vite altoborghesi e per affermare la loro percepita immunità dalle normali restrizioni sociali, iniziarono a perpetrare piccoli furti e vandalismo. Ad esempio, rubarono diversi oggetti entrando di nascosto in una casa della confraternita all'Università del Michigan. Incoraggiati dal non essere stati scoperti, passarono a una serie di crimini più gravi, tra cui l'incendio doloso, ma nessuno sembrò accorgersene. Delusi dall'assenza di copertura mediatica dei loro crimini, decisero di pianificare ed eseguire un sensazionale crimine perfetto che avrebbe attirato l'attenzione del pubblico e confermato il loro status percepito di superuomini. Fu così che ciò che era iniziato come curiosità intellettuale derivante dai testi di filosofia si concluse con il brutale omicidio di un bambino. Leupold e Loeb all'epoca avevano 19-18 anni e il loro piano consisteva nel rapire e uccidere una persona qualunque, a caso, per poi chiederne il riscatto ad omicidio avvenuto. Ritenevano infatti che, se la vittima è scelta a caso al mente e quindi non c'è movente, risolvere un caso di omicidio diventi pressoché impossibile. Mercoledì 21 maggio 1924 misero in atto il loro piano. Si appostarono davanti alla Harvard School for Boys, vagliando vari candidati, finché scelsero il malcapitato Bobby Franks, che era anche un vicino di casa di Loeb e un suo lontano cugino e aveva giocato a tennis a casa della famiglia Loeb diverse volte. Utilizzando un'automobile che Leupold aveva noleggiato sotto il nome di Morton D. Ballard offrirono a Bobby un passaggio mentre tornava a casa da scuola. Inizialmente il ragazzo rifiutò perché la sua destinazione era a meno di due isolati di distanza, ma Loeb lo convinse a salire in macchina per discutere i vantaggi di una racchetta da tennis che stava utilizzando. La sequenza precisa degli eventi che seguirono rimane controversa, non essendo chiaro chi dei due assassini fosse al volante della macchina e chi sedesse sul sedile posteriore con lo scalpello utilizzato per uccidere il ragazzino. Bobby, infatti, era seduto davanti sul sedile del passeggero e venne colpito più volte alla testa da dietro con lo scalpello. Poi uno dei due o entrambi gli assassini lo trascinarono sul sedile posteriore e lo imbavagliarono infilandogli una calza in gola. Poco dopo Bobby morì. Il certificato di morte del ragazzo firmato dal coroner Wolf riporterà tessualmente lesioni alla testa e al corpo e soffocamento a causa dell'applicazione di un bavaglio alla bocca nella città di Chicago. Omicidio, punta smussata di scalpello. Gli assassini a questo punto coprirono il corpo e guidarono fino a un'area remota dell'Indiana dove lo abbandonarono non prima di averlo denudato degli abiti e averne cosparso il volto di acido cloridrico per renderne più difficoltosa l'identificazione. Infine lo gettarono in un canale sotterraneo. Dopo aver pranzato a base di hot dog come se nulla fosse i due tornarono a Chicago. Qui telefonarono ai genitori di Bobby per informarli che il figlio era stato vittima di un rapimento e inviarono alla famiglia Franks una lettera contenente una richiesta di riscatto. Per scriverla avevano utilizzato una macchina da scrivere rubata all'università. I due killer bruciarono poi i loro capi di abbigliamento macchiati di sangue e ripulirono la tappezzeria della macchina presa a nolo. Successivamente passarono la serata giocando a carte. Sembrava quindi che avessero davvero compiuto il delitto perfetto. Tuttavia, e qui le cose iniziarono a divergere da quanto pianificato dagli assassini, il cadavere di Bobby fu ritrovato prima che la famiglia Franks potesse pagare il riscatto dall'immigrato polacco Tony Mink che avvertì le autorità. Il denaro di cui gli assassini non avevano alcun bisogno era forse un depistaggio più che un movente ma in ogni caso il fatto che il cadavere di Bobby venisse ritrovato in anticipo rispetto ai tempi preventivati dagli assassini costituiva indice evidente che il piano perfetto in realtà tale non fosse. Quando Leopold e Loeb appresero che il corpo di Bobby era stato trovato, distrussero immediatamente la macchina da scrivere che avevano utilizzato per la richiesta di riscatto, ma questo non li salvò. Sul luogo del ritrovamento del cadavere fu infatti rinvenuto un paio di occhiali. Eccolo, l'errore banale che sarà fatale agli assassini. Gli occhiali infatti, all'apparenza semplici, avevano una particolare montatura. Solo tre persone nell'intera città di Chicago avevano acquistato occhiali con quella particolarità e una di queste era nata a Leopold. Interrogato dalla polizia, Leopold disse di aver perso gli occhiali durante un'uscita di bird watching e di aver trascorso il giorno dell'omicidio con Loeb a Chicago. Quest'ultimo mentì, fornendo un alibi a Leopold, ma una serie di incongruenze li tradì. I ragazzi avevano infatti affermato che nella data dell'omicidio avevano prelevato due donne di cui non conoscevano il cognome utilizzando l'auto di Leopold per trascorrere del tempo con loro e poi lasciarle qualche tempo dopo vicino a un campo da golf. L'alibi si rivelò falso quando l'autista di Leopold disse alla polizia che stava riparando l'auto di Leopold proprio il giorno in cui gli uomini affermavano di averla usata. La moglie dell'autista confermò che l'auto era parcheggiata nel garage di Leopold nel pomeriggio dell'omicidio. Inoltre, la macchina da scrivere distrutta dagli assassini e impiegata per scrivere la lettera di riscatto, venne recuperata nella laguna di Jackson Park il 7 giugno. Loeb fu il primo a confessare. Affermò che Leopold aveva pianificato tutto e aveva ucciso Franks sul sedile posteriore dell'auto mentre lui guidava. La confessione di Leopold seguì subito dopo e sostenne l'inverso, ovvero che lui era l'autista e Loeb l'assassino. Per il resto, le loro confessioni coincidevano ed erano coerenti con le prove raccolte. I due si recarono anche sui luoghi del delitto con gli inquirenti. La famiglia Loeb assunse il noto avvocato Clarence Darrow, noto per la sua opposizione alla pena capitale, per difendere i ragazzi dalle accuse di omicidio e sequestro di persona. Il 21 luglio 1924, i due si dichiararono colpevoli di rapimento e omicidio, evitando così un processo con giuria e sottoponendo il caso davanti a un giudice unico, il giudice John R. Caverly. Per 33 giorni, nel luglio-agosto del 1924, in un'aula gremita, 200 dei 300 posti erano riservati alla stampa. L'avvocato dello Stato, Robert E. Crowe, presentò gli imputati come insensibili, privilegiati, amanti del brivido e chiese al giudice di condannarli a morte. Furono ascoltati numerosi testimoni, persone informate sui fatti e i parenti della vittima. In foto vedete la madre di Bobby. Il procuratore concluse la sua ringa evidenziando «Avete davanti a voi uno degli omicidi a sangue freddo più crudeli, più codardi, più vili che siano mai stati processati nella storia di qualsiasi tribunale». Da parte sua, l'avvocato Darrow difese i due assassini come giovani fuorviati e malati di mente, meritevoli di un po' di pietà, offrendo un eloquente appello contro la pena capitale e concludendo che il delitto è stato l'atto insensato di bambini immaturi e malati. Il giudice risparmiò loro la vita e motivò tale scelta principalmente in considerazione dell'età degli imputati, 18 e 19 anni, ovvero persone che non avevano raggiunto la maggiore età. L'avvocato Darrow riuscì quindi a evitare la pena di morte ai suoi clienti. Nathan Leopold e Richard Loeb furono condannati all'ergastolo per omicidio e a 99 anni ciascuno per sequestro di persona. Il delitto scosse l'opinione pubblica del periodo per vari motivi, per l'efferratezza dell'omicidio, per lo status sociale degli assassini, per la loro mancanza totale di rimorso, per la giovane età della vittima e degli assassini stessi che uccisero un innocente per tedio e per il puro gusto di farlo, credendo di possedere un'intelligenza talmente elevata da riuscire a farla franca. Dopo la sentenza Leopold e Loeb furono inviati in un penitenziario dell'Illinois settentrionale. Nel maggio 1905 Leopold fu trasferito nel nuovo penitenziario di Statesville e Loeb lo raggiunse lì nel 1932. Nel 1936 Richard Loeb fu attaccato dal suo compagno di cella, James Day, che lo ferì brutalmente con un rasoio a Sarramanico. Loeb morì per le ferite subite. Day sostenne di essersi difeso da un assalto sessuale. Affermazione che in seguito le indagini avvalorarono, stabilendo che si era trattato di legittima difesa. Nathan Leopold venne rilasciato sulla parola nel 1958, dopo 33 anni di carcere. Tornato in libertà, si trasferì sull'isola di Porto Rico per evitare l'attenzione dei media. Lì scrisse un'autobiografia e si sposò. Morì nel 1971, all'età di 66 anni, per un attacco di cuore. Nel frattempo Jacob Frank, il padre di Bobby, era morto nel 1928 lasciando nel suo testamento 100.000 dollari per la creazione di un memoriale per suo figlio Bobby, inaugurato il 7 dicembre 1930 alla presenza della vedova Flora e del fratello maggiore di Bobby, Jack. Flora, per parte sua, dopo aver perso il figlio, spese il resto della vita lavorando per istituzioni di beneficenza. La sorella di Bobby, Josephine, dopo la morte del fratello minore, ricevette addirittura minacce di morte da sconosciuti che cercavano di estorcere il denaro alla famiglia. I responsabili, una coppia di ragazzini, furono individuati e condannati a sei mesi di carcere. Il fratello di Bobby, Jack, dopo aver frequentato l'University of Chicago, nonostante fosse divenuto un agente immobiliare, pubblicò anche due libri di poesie, tra cui My Blessed Little Pal, che nel 1926 fu dedicato al mio benedetto piccolo amico, la mia stella guida, riferendosi a suo fratello Bobby. Sposato e divorziato, morì per miocardite cronica ed epilessia a soli 30 anni. Si conclude così la storia del povero Bobby Frank e degli assassini che lo uccisero per gioco. Il caso di Leopold de Loeb è stato fonte di ispirazione per numerose opere teatrali e cinematografiche. Nel 1929 Patrick Hamilton prese spunto dal caso per scrivere il dramma teatrale Rope, che ispirò il film Nodo alla gola diretto da Alfred Hitchcock nel 1948, che tra l'altro, pur non essendo tra i più noti, è il mio film di Hitchcock preferito, perché è privo di azione, si basa sulla sfida intellettuale tra gli assassini e chi cerca di stanarli e si svolge tutto in una sola stanza. A me non resta quindi che consigliarvi il romanzo più famoso ispirato al caso, ovvero Compulsion, scritto nel 1956 dal romanziere Meyer Levin, che rielabora la vicenda che abbiamo raccontato e che tre anni più tardi è stato anch'esso adattato per il grande schermo nel film Frenesia del delitto, interpretato da Orson Wells. Trovate il link affiliato al romanzo nell'info box. Io vi saluto e vi ringrazio per aver ripercorso con me la storia criminale di oggi. Al prossimo delitto e al prossimo libro!